Occhio a scendere quella nuova che abbiamo fatto eh, perché c'è il buco sotto eh, non incruzzati eh, fai i due tronchi poi c'è quell'altro che scende a picco, dai indietro tanto perché... ...dietro oscuro! Ecco, quella dopo! Eh, non è che questa sia meglio eh! Questa ti scappa via anche davanti, questa! No ma eh, si incuzza eh! Si incuzza di bestia! Dai indietro, falto indietro eh! Adesso va bene, si può scendere anche da lì poi! Dai indietro o mostro eh? Dai indietro o mostro eh? Facelo andare, facelo andare! Bravo! Dai indietro! 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 è nato sotto variato sotto è nato sotto la salita? che cosa? non ci vedi ma non ci vedi che non ci vedi? che non ci vedi? che non ci vedi? Quanti di uno? E' presto eh? E' presto? No, poi dai giù dai prima sei, fai là, vieni là dai strati, vieni qua, c'è quel salitone lì, poi giri dietro, c'è quel salitone che poi se vai a sinistra vai al lavatorio, non passava. Se noi facciamo quel rampone qua adesso, andiamo sulle bici, e poi di lì torniamo le api, rifacciamo il giro. E sei fuori? Appunto. Andiamo di qua e facciamo quella... Eh ma qua bisogna vedere com'è su, eh? Se c'è giù la roba in mezzo. Cioè tu dici andare là fino alla Fageta?